Il primo ministro slovaco, Robert Fizzo, si è dimesso. La decisione arriva a tre settimane dall'omicidio del giornalista Jan Kuciak, cronista di Actuality che stava lavorando ad un'inchiesta sui legami fra l'Andrangheta e alcune persone vicine al governo. L'annuncio è arrivato durante l'incontro con il presidente della Repubblica, Andrei Ikiska. Fizzo si è dimesso ad una condizione, che non si va da elezioni anticipate. In realtà la decisione del premier sembrava non dovesse arrivare più dopo le dimissioni del ministro dell'interno Robert Kalinac e di altri due membri del governo, la consigliera di Fizzo, Maria Troscova e il segretario del Consiglio di Sicurezza, Viljan Yazan, proprio coloro che nella ricostruzione di Kuciak erano sospettati di avere contatti pericolosi con alcuni imprenditori italiani ritenuti vicini all'Andrangheta. Ma le 40.000 persone scese in piazza venerdì a Bratislava nella più grande protesta dopo la rivoluzione di Velluto del 1989 hanno convinto Fizzo a lasciare. Il primo marzo scorso sette persone di origine calabrese furono arrestate per il delitto e poi rilasciate per carenza di prove. Fra loro Antonino Vadalà, accusato di aver avuto un ruolo nell'omicidio del giornalista e della sua fidanzata. Scarcerato pochi giorni dopo, l'imprenditore originario di Bova Marina è finito nuovamente in cella, questa volta su richiesta della Procura della Repubblica di Venezia con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti con l'aggravante del favoreggiamento alle mafie. Consolato Minniti per la CNews24.